Eccoci qua, ben ritrovati a O la Borsa o la Vita, un settimanale di Antenna Sud dedicato all'economia e dalla finanza e soprattutto una trasmissione dedicata a tutti quanti voi per fare in modo che possiate raccontarci i vostri cruci relativamente ai vostri conti in banca, ai vostri risparmi, alle vostre aspettative sul futuro naturalmente economico. Con noi ormai da sei settimane la dottoressa Marianna Roglieri, ben arrivata. Ben trovati. Noi alcune puntate ci diamo del tu, altre del lei, a seconda della situazione, però oggi abbiamo cominciato con lei... Dopo sei settimane? No, dopo sei settimane... No, torniamo indietro. Oggi abbiamo cominciato con lei, andiamo avanti con lei, poi si pensa. Allora, dottoressa Roglieri, noi siamo letteralmente subissati da mail e telefonate perché abbiamo scoperto che il segreto di questo programma è nella sua assoluta semplicità, ovvero noi siamo capaci veramente di dare spazio a tutte quelle che sono le istanze dei nostri telespettatori che naturalmente vertono sui più svariati argomenti. Noi passiamo dal mutuo fino ad arrivare a scenari di politica economica internazionale con una facilità straordinaria, ma abbiamo scoperto che il segreto è proprio questo e quindi continuiamo su questa falsariga, dunque... Proviamo a dare delle risposte semplici. Anche oggi per lei, come al solito, tre quesiti che ci arrivano un po' dalla nostra pagina Facebook dove potrete inoltrare queste domande, ma anche dal nostro numero verde ed è proprio al numero verde che è arrivata questa domanda, che più che una domanda è proprio quasi un simposio perché non finiva più la telefonata quando la nostra centralinista Giovanna ha cominciato poi a ricoppiare non capiva più niente perché questa è una coppia, Teresa e Gianvito e ci scrivono o Gianvito e Teresa, adesso non voglio assolutamente fare una distinzione di genere però insomma ci scrivono 5 anni fa abbiamo contratto un mutuo per acquistare casa oggi vorremmo chiedere un finanziamento per ristrutturarla e raccontano anche cosa vorrebbero ristrutturarne la casa che è inutile che ripetiamo però la domanda è, ci conviene contrarre un finanziamento o possiamo chiedere un nuovo mutuo? Benissimo, allora innanzitutto bisogna capire un pochettino a che tipo di finalità è teso il finanziamento contrariamente a quello che dicevamo probabilmente innanzitutto il mutuo originario se copre per intero il valore della casa era fino a qualche tempo fa in uso finanziare il 100% del valore dell'immobile quindi se sono passati 5 anni i piani di ammortamento dei mutui sono cosiddetti alla francese ovvero si porta in ammortamento una quota di interessi maggiore per i primi anni quindi probabilmente dopo 5 anni la quota di capitale del mutuo sarà ancora troppo alta per poter permettere un'iscrizione ipotecaria di secondo grado nel senso quando si compra casa se le cose sono tutte come si scrive sui libri l'ipoteca si scrive di primo grado e noi finanziamo l'80% del valore dell'immobile fino ad un massimo dell'80% se i nostri amici invece hanno avuto una quota di finanziamento un pochettino più alta è difficile che riescano dopo 5 anni ad avere un ulteriore spazio per un'iscrizione ipotecaria di secondo grado Dottoressa, lei mi sta dicendo a Teresa Gianvito che non è il caso? Dipende anche molto da che tipo di importo loro chiedono perché se il finanziamento per esempio è un finanziamento esiguo un finanziamento di 10.000-15.000 euro si potrebbe fare accesso al finanziamento senza garanzie che è un pochettino più semplice da ottenere mentre il mutuo ipotecario richiederebbe un nuovo atto notarile quindi nuove spese che per un importo di 10.000 euro Non lo dare, non lo dare Posso dire questa cosa che in realtà adesso così vi faccio l'atore della vostra in realtà loro dovrebbero ristrutturare la cucina verandandola in modo tale da ricavare un bagnetto Benissimo, quindi può essere che l'importo sia superiore e che quindi sia il caso di rivolgersi in banca per valutare effettivamente la possibilità di avere accesso ad un nuovo mutuo quindi in quel caso i tassi più bassi del mutuo vanno a compensare le eventuali spese notarili che i nostri amici dovranno sostenere un nuovo atto di mutuo significa una nuova spesa notarile una nuova spesa per l'iscrizione ipotecaria il tasso più basso del mutuo rispetto al finanziamento però permetterà a loro di avvantaggiarsi su una somma più alta Va bene, io prendo appunti perché insomma se poi torneranno a telefonare voglio essere preparato perché Teresa e Giovanni hanno fatto una telefonata di mezz'ora Allora, seconda, questa invece è una mail ce la scrive Gianni mi piacerebbe risparmiare per poter dare in futuro ai miei figli una possibilità in più e magari mandarli all'estero per studiare mi date qualche consiglio? Gianni, se noi ce li avevamo adesso per chiarità arriveranno ma se ce li avevamo noi è una ricetta così è difficile da dare, come si fa oggi con questi mercati? Gianni è stato, diciamo, forse ci dà la possibilità di avere accesso ad un argomento che secondo me è particolarmente sensibile in questo momento ovvero l'incertezza sui mercati non deve condizionare la strategia delle famiglie cosa intendo dire? Quando si fa un programma di quelli che vogliono essere le capacità di risparmio di una famiglia si deve pensare a tutto ciò che nel corso della vita della famiglia stessa può capitare uno dei motivi sicuramente per i quali si accumula è dare un futuro ai propri figli che questo futuro si possa chiamare non so, l'abilitazione ad una professione lo studio all'estero l'acquisto di una casa comunque si chiami è necessario programmare per tempo un fattore fondamentale quando si mette da parte dei soldini per i figli è il tempo perché muovendosi con larghissimo anticipo giocando sul fattore tempo si possono mettere da parte anche piccolissime somme che negli anni potrebbero dare la possibilità ai figli di trovarsi con un gruzzoletto interessante per esempio la crisi dei mercati in questo momento darebbe la possibilità ad una famiglia con due figli piccoli di fare un PAC che cos'è? un piano di accumulo su un fondo che nel corso degli anni sicuramente se parliamo di bambini piccoli darà i risultati cioè lei dice che nell'arco temporale dei 15-20 anni c'è grande possibilità che quello che ho investito oggi possa aumentare per davvero certo perché così si programma con piccole somme mettere da parte dei soldini significa tra 20 anni dare la possibilità al nostro figlio di avere un bel gruzzoletto da parte non solo, ne faccio un discorso un po' più sofisticato il PAC per esempio va bene per un investitore che è disposto ad accettare dei momenti di volatilità dei mercati e quindi a fare una valutazione di quello che ha messo da parte ad un certo punto della vita del PAC che può anche subire delle perdite sul mercato per esempio chi ha meno capacità o volontà di affacciarsi ai mercati potrebbe optare per una polizia assicurativa che insieme alla capacità di risparmio tutela anche gli eventi imprevisti quindi non so, ci sono alcune polizie assicurative finalizzate alla tutela dei minori che prevedono addirittura il pagamento, il completamento del fondo fino al raggiungimento della maggiorità ovviamente le polizie assicurative rispetto ai PAC hanno dei caricamenti maggiori quindi se ci si tutela contro un rischio è necessario valutare che cosa veramente vogliamo però la strategia... E' cominciare presto E' cominciare presto Sono io Quello che volevo chiedere, dottoressa E' che io ho fatto un'assicurazione Giusto, ne stavamo parlando 20 anni fa E ho ripreso Mi hanno liquidato Mi hanno dato gli stessi soldi Tutti quelli che gli ho dato Mi hanno ridato quasi con nessun interesse Quando glielo ho detto all'assicuratore Ho detto, ma vedi che questi sono i soldi che io ti ho dato in mente E gli ho detto, non ti preoccupare Tanto almeno li hai messi da parte Cosa che non avresti fatto Beh, Antonio L'hanno fatto fesso un po' Direi questo Direi innanzitutto Bisogna valutare che tipo di assicurazione era Cioè se è un'assicurazione che tu hai messo da parte Con un versamento PIC Ogni anno Ogni anno Allora, che cosa succede? Spesso quando si fanno gli investimenti in polizie assicurative Per un fatto di comodità Si tende a mettere da parte 100 euro al mese Anziché per esempio per il versamento minimo 1200 euro all'anno Quel frazionamento Che si può fare anche diciamo in casa Costa perché si chiama interesse di frazionamento No, io davo una rata all'anno Una rata all'anno Anche la rata all'anno Alla fine ti ha rimborsato nulla Allora, significa che I costi di caricamento Della polizia assicurativa Che è fatta 20 anni fa E sicuramente di vecchia generazione Rispetto Gli investitori sono pagliati La ringrazio per l'uso di questo aggettivo Dottoressa Vecchia generazione Se lo poteva risparmiare No, no Mi riferivo alla polizia assicurativa Ovviamente Non all'investitore Va bene Va bene Aveva dei caricamenti importanti E probabilmente ha scontato Avendo come sottostante Un investimento finanziario particolare In momenti di mercato Quindi paradossalmente Ha garantito il capitale Ma non ha garantito La redditività Va bene Le nuove polizie hanno una cosa simpaticissima Che si chiama minimo garantito Che è miele per gli investitori Cioè quando parlo di minimo garantito Si accendono le lampadine Le lampadine del surplus Anche quello è un minimo garantito Che viene calcolato all'interno di una componente Che ci si spera un po' più alta Va bene Abbiamo solo due minuti Per l'ultima domanda di questa settimana Che differenza c'è tra un BTP e un BOT? Innanzitutto sciogliamo gli acronimi E poi dopo raccontiamo la differenza È un buono Il BOT è un buono ordinario del tesoro Il BTP è un buono del tesoro pluriennale Quindi detto questo La differenza sta solo nel tempo Il BOT può essere effettuato Per 3, 6, 12 mesi al massimo Il BTP invece può avere Una durata trentennale Può essere proprio utilizzato Come uno strumento di investimento Se vogliamo a lunghissima Se dico che dato il mercato Oggi conviene più andare verso il BTP Sbaglio oppure dico una cosa giusta Con un orizzonte temporale più ampio Quindi capace di dare maggiori soddisfazioni Allora Ho sbagliato Dalla faccia che ha fatto Ho capito che ho sbagliato È esattamente il contrario Vedi? Vedi Cioè quando c'è Voi dovete chiedere i consigli ai consulenti Che fate di testa vostra Vedi? Fate gli errori No perché abbiamo detto una cosa prima Che ha tratto in inganno Antonio In realtà quando di solito Ci sono delle incertezze sui mercati I titoli molto lunghi Subiscono di più La volatilità del mercato Mentre il titolo corto Si ha la certezza del rimborso In brevissimo tempo E quindi sono Un pochettino più sicuri Ma non perché più sicuri In quanto il BOT o il BTP Non vengono emessi dallo Stato Che garantisce La solvibilità Del titolo Però Noi sappiamo che tra sei mesi Per esempio lo Stato italiano Ci auguriamo tutti Rimborserà Non possiamo sapere Tra trent'anni Che cosa potrà succedere Ecco perché Il BTP è un po' più Volatile Grazie veramente Concludiamo così La puntata O la Borsa O la Vita Vi diamo appuntamento Naturalmente A sabato e domenica Prossimi Per poter Ancora una volta Rispondere Alle vostre domande Lo facciamo Con una vostra richiesta Via mail Sulla pagina Facebook O altrimenti Attraverso il numero verde Oggi abbiamo imparato Che se dovete ristrutturare Siete freschi di mutui Fatevi bene i calcoli Per non finire dalla padella Alla braccia Abbiamo anche imparato Che se vogliamo pensare Al futuro dei nostri figli Dobbiamo farlo Molto tempo prima Perché prima lo facciamo Meglio è per loro Eccezionale Ma soprattutto oggi Abbiamo imparato Che tra i BTP e i BOT È meglio fare il BOT Fate il BOT E vedrete Che la vita Vi sorriderà Va bene? Grazie alla dottoressa L'appuntamento è alla prossima Arrivederci a tutti quanti voi O la borsa o la vita Noi naturalmente preferiamo Sempre la vita Sempre la vita Grazie a tutti